Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale. Luca, Luca ti devo chiedere immensamente scusa per la gufata incredibile nelle storie di Instagram. Però purtroppo è la nostra ultima speranza per riuscire a ottenere almeno un punticino a San Siro. Vuoi vedere la nostra rosa? Hai visto la nostra rosa? Quanto eravamo messi male? Cioè, non sapevo veramente che pesci prendere. Giocavamo contro di voi che eravate... E siete una corazzata incredibile, siete fortissimi. Siete una delle squadre che sicuramente punterà lo scudetto quest'anno. Io spero per voi che riusciate a vincere, stavolta senza gufarla, davvero. Quindi puoi ben capire che la mia ultima possibilità per ottenere questo punto era intervenire con l'arma segreta. E cioè, il gufo. Far intervenire il gufo Papyrus. E in questo caso sì, ha funzionato. Poteva anche funzionare meglio, tra l'altro, se non ci fosse stato quel gol alla fine di Lukaku. Però a me è dispiaciuto davvero tanto per Winnie, per la fine di Winnie. Veramente, mi è dispiaciuto tantissimo. E' intervenuta anche la mucca Carolina, come puoi ben vedere. La mucca del parmigiano reggiano a sincerarsi e a scusarsi con Winnie De Poo. Speriamo che possa tornare il primo possibile, davvero, Luca. Mi dispiace tantissimo. Ma veniamo a noi, veniamo alla partita, ragazzi. Veniamo all'Inter Parma. Terminata col punteggio di 2-2. Bellissima partita. Veramente una bella partita. E veramente bellissimo Parma. Finalmente mi ha fatto ridere perché all'improvviso è venuto il flash del giornalista che chiede ad Aversa. Adesso il Parma ha tolto la maschera. Ora è finalmente un Parma da Champions. Ecco, sono scoppiato a ridere. Infatti stavo facendo colazione e ho sentito questa cosa. Ho riso tantissimo perché non esageriamo. Sì, abbiamo una buona classifica. Finalmente abbiamo pareggiato a San Siro. Non demeritando assolutamente. Addirittura potevamo anche vincerla sta partita perché eravamo sul 2-1 fino al gol di Lukaku. Un gol molto controverso ma adesso ne andiamo a parlare. Quindi insomma è un Parma veramente fantastico. Pensando anche al fatto che eravamo messi male, male, male dal punto di vista numerico. Eravamo senza Cornelius, senza Inglese, senza Bruno Alves, con i giocatori contati. Quindi insomma molto male. Partiamo subito col dire che nel primo tempo il Parma è stato fantastico. Ovviamente uno dei migliori primi tempi di quest'anno, questo è sicuro. Veramente fantastico anche perché è stato un Parma contropiedista a tutti gli effetti. Perché è stato un 4-3-1-2 più che un 4-3-3 solito perché Kulusevski faceva da falso nueve ma che tornava poi molto spesso anche a centrocampo per riuscire a bloccare gli interventi e la regia di Brozovic che in questo primo tempo, diciamo, durante la partita è stato inguardabile, veramente inguardabile. Ha commesso due errori enormi, due errori enormi e hanno permesso anche al Parma di segnare proprio in quei due errori. Siamo stati molto cinici, quindi siamo tornati cinici e questo è il bello del Parma, ok? Quando non siamo cinici la partita praticamente è già persa. Quando invece dimostriamo la nostra cinicità, credo si dica così, il nostro essere cinici insomma dimostriamo di essere una squadra che fa male, sa fare male anche alle grandi esattamente come con la Juve l'anno scorso nel 3-3 appunto al Juventus Arena, Allianz Arena mi confondo sempre con lo Juventus Stadium, no, Allianz Stadium, madonna mia, si capisce ma è un caldo uguale allo stadio del Bayern Monaco, chiamiamolo Juventus Stadium che è esattamente come erano gli altri anni, non riesco mai a dirlo, vabbè comunque è lo stadio di Torino, è lo stadio di Torino. Ce la facciamo papirus? Bene, svegliate un attimo. Allora, esattamente come eravamo contro la Juventus, siamo stati cinici importanti e abbiamo dimostrato che potevamo fare davvero molto male a un Inter che, bisogna ammetterlo, è un Inter che giocava con giocatori abbastanza, con la Rosa Corta, ecco, ha giocato tre partite in pochi giorni, adesso la prossima è anche nel turno infrasettimanale, insomma, ha le sue difficoltà, siamo riusciti a pungere l'Inter nel suo momento di massima difficoltà e questa è stata una cosa molto positiva. Caramò, veramente salito sugli scudi, ma era anche normale che fosse così perché l'abbiamo pagato tanto, giocava contro la sua ex squadra che lo ha praticamente cacciato, possiamo dire, perché l'Inter se ne è liberato il prima possibile, prima ha cercato di darlo al bordo, poi l'ha dato a noi, quindi aveva anche questa voglia di rivalsa, quindi ha dimostrato il suo valore, finalmente non vedevamo l'ora di vedere Caramò in azione, Caramò e Gervigno veramente insieme sono strepitosi, sono straripanti e possono anche dare molto di più, secondo il mio punto di vista. Per me l'attacco è andato benissimo, veramente è andato molto bene, Kulusevski ancora top, veramente io ho finito gli aggettivi per Kulusevski, patrimonio dell'UNeschi, no? Mi ho sempre detto Kulusevski, patrimonio dell'UNeschi perché credo che Kulusevski diventerà uno dei top calciatori in Italia tra pochi, cioè già l'anno prossimo per dire, cioè quando andrà all'Atalanta e giocherà la Champions, per me Kulusevski farà faville, ragazzi, fortissimo, a 19 anni sto ragazzo, veramente una classe sopraffina e farà vedere grandi cose. Mi sono piaciuti tantissimo Dermacu, ragazzi, Dermacu, partitone incredibile, e Scozzarella. Scozzarella ragazzi in questo momento è uno dei cinque probabilmente registi in Italia più forti perché con le sue verticalizzazioni e con i suoi lanci ragazzi siamo sempre pericolosi per i contropiedi, sempre pericolosi. Ci siamo portati sul 2-1 e ero anche lì un po' titubando perché dicevo ma veramente stiamo vicino 2-1 in questa difficoltà, con la rosa in questo momento a San Siro contro questa Inter, ma cioè svegliatemi, sto sognando in questo momento. Finché ovviamente primo tempo fantastico, secondo tempo è normale che sia così, Parma fa sempre così, fa solo un tempo, poi l'altro si chiude in difesa, cerca ogni tanto poi di ripartire in contropiede, però è normale che nel secondo tempo, dopo la sveglia che avrà dato sicuramente Conte, l'Inter sia immersa ed è anche giusto che fosse così, mi aspettavo un Inter arrembante fin dall'inizio, quindi è anche giusto che sia così, l'Inter nel secondo tempo ha dimostrato il suo valore e ha giocato veramente molto bene nel secondo tempo. Noi siamo stati bravissimi a chiudere qualsiasi cosa, veramente qualsiasi azione, hanno avuto anche loro varie occasioni, anche alla fine con Esposito potevano anche portare sul 3-2, ma veniamo ora ai gol del 2-2, perché è stato un gol molto controverso, anch'io sulla mia pagina Instagram e qua su YouTube, sul secondo canale, ho chiesto, proprio soltanto chiesto, secondo voi, questo qui, postando l'immagine del VAR, è gol o no? Cioè era fuorigioco di Candreva o no? È scoppiato il finimondo, perché? Perché ancora oggi, ancora stamattina non si capisce se è fuorigioco o no, o meglio, io credo ormai di aver capito, perché tramite mi avete mandato anche altre immagini su Instagram, quindi pensate un po', cioè ci sono varie immagini del VAR per dire, cioè, penso a questi qua in quattro minuti che hanno avuto come facevano a... come hanno fatto a dire sì per me così, per me cos'ha. Beh, insomma, ho capito che alla fine il gol era regolare, cioè non era fuorigioco. Per veramente un millesimo di millimetro, veramente per pochissimo, Scozzara teneva in gioco Candreva. Oh, non hanno mai fatto rivedere Lukaku, il passaggio a Lukaku io non l'ho mai visto, perché per me era fuorigioco quello di Lukaku, non quello di Candreva, non l'hanno mai fatto vedere. E non hanno mai fatto vedere il fallo che c'è 20 secondi prima su Caramò, dove palla campanile, Caramò stacca di testa, da dietro, credo che fosse Bastoni, gli mette la mano sulla schiena, lo fa cadere, quindi gli fa perno, gli fa ponte, non so come si dica in questo caso, gli mette la mano sulla schiena, lo spinge, colpisce la palla di testa e gli parte l'azione per il gol. Ma è fatta vedere, per loro non era fallo. Va bene, e lì c'è stato il 2-2. 2-2 che, ripeto, meritatissimo per come stava giocando l'Inter nel secondo tempo. 2-2 meritato perché il pareggio, secondo me, alla fine è risultato giusto, che possa stretto a uno e l'altro perché alla fine poteva meritare un po' più l'Inter, così come poteva alla fine vincere il Parma, ecco. Però, alla fine il pareggio ci sta ed è giusto così. 2-2 meritatissimo, che però è molto controverso per tanti fattori. Cioè, io lo so già che adesso qualcuno di voi, come già mi avete fatto su Instagram, qualcuno di voi starà dicendo, sì, allora i due rigori per l'Inter no, non c'erano. Per me non c'erano assolutamente né quello su Lautaro né quello su Biraghi, assolutamente no, per me non c'erano. Quindi, tra l'altro, sarebbe intervenuta sicuramente la VAR in quel caso, non è neanche intervenuta, quindi di cosa stiamo parlando. Quindi, non c'era assolutamente nessuno di quei due rigori. E alla fine io non posso neanche recriminare più di tanto. Cioè, è un gol molto controverso e se voi state lì a dire magari, no Papyrus, ma no, ma cosa stai dicendo di qua di là? Pensate se fosse accaduto il contrario. Cioè, voi pensate il contrario. Tra l'altro, errore incredibile, doppio errore dei guardarini perché non solo sbaglia ad alzare la bandierina e fischiare il fuorigioco, che alla fine abbiamo visto che potrebbe non esserci effettivamente, ma la alza prima dei gol di Lukaku. Quindi immaginate sti giocatori che vedono la bandierina alzata. Oh, fessi loro perché non si devono fermare fino al fischio dell'arbitro, eh? Fessi loro, ok? Fessi loro perché è loro l'errore. Però ti destabilizza normale vedere sta bandierina alzata, senti dei fischi di San Sio. Di qua di là non capisci più nulla. Non vai più con quella sicurezza sul pallone. Magari Sepe non ci va più su quella sicurezza sul pallone o Jacoponi, eccetera, eccetera. Pensate se fosse accaduto il contrario. Cioè, voi pensate se fosse accaduto. Dalla parte opposta, cioè il Parma che fa gol in questo modo, con il guardarini che alza la bandierina e con l'Inter che si ferma di qua di là. Cioè, voi pensate il casino che sarebbe scoppiato, ok? Manco i Novax. Cioè, veramente, manco i Novax. Robbe assurde sarebbero successe. Quindi, alla fine il pareggio è giusto. È giusto per il Parma perché così ottenere un pareggio con la rosa che avevi in quel momento a San Siro contro questa Inter è fantastico. È giusto per l'Inter perché alla fine, primo tempo possiamo dire che lo ha buttato completamente. Sono riusciti a riprenderla, però più di questo secondo me non si poteva pretendere perché ci sta il pareggio. Potevano fare sicuramente di più visto il pareggio della Juventus contro il Lecce, però veramente avete la rosa molto molto corta. Anche voi state giocando veramente tanto tanto spesso, quindi ci sta alla fine pareggiare contro il Parma, secondo me. E poi cos'altro? Insomma, è stata una bellissima partita. Io sono molto contento e ditemi la vostra riguardo alla VAR, ditemi la vostra riguardo agli episodi, ditemi la vostra riguardo a questo Parma e a questa Inter. Secondo me fantastici e chiudo, chiudo dicendo a voi che siete di Parma e provincia magari che vi state guardando in questo momento, che siete arrivati fino a questo momento e siete fantastici, domani sera su TV Parma sarò ospite. Quindi se volete sintonizzarvi su Barsport, cliccate e probabilmente vedrete questo bel faccione anche in televisione. Grazie mille per aver visto questo video, un saluto, ciao a Papyrus e dalla Mucca Carolina.